oddio ma che è sto bug ragazzacci benvenuto e bentornati in questo nuovissimo video di zotox quest'oggi siamo in compagnia di tutto il mio team su fortnite purtroppo c'è il nabbo che sta ballando in questo ecco un po' stavo già capito com'è l'andazzo della situazione e c'è il solito nabbo del team senza skin ragazzi donatemi qui sotto vi lascio il link per le donazioni qui sotto mi raccomando facciamo una colletta e gli compriamo con 10 euro una cazzo di skin e da pronti andiamo da precisare che noi siamo la compagnia del bambinello da non sbagliarci con quella che ci giochiamo no no noi siamo più forti vi daremo una dimostrazione di quanto siamo forti ragazzi c'è una cassa poi hai visto ci stava qualcuno per caso no però sicuro c'è caracca mortacci duro che culo arriva questo com'è scurato questo è il nostro ruolo di battaglia cazzo ma questo rimango nel video perché è il bello della diretta oh c'è un m4 blu qua da me e no qua c'è stato nemici è diverso arrivo 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 però verso 2 occhio sta a salire bravo è morto tu è un bombastardo ma è schifo 4-1 era no sta arriva l'amico no sta arriva l'amico sta arriva l'amico occhio è forte una terra una terra l'altro proiettato troppo poca di vita eccolo un altro un altro un altro che cazzo è stato ah l'ha fatto pure il tito bravo mamma mia ma calma del tito oh ma dai qualcosa a favore non ti dà un cazzo che ti serve a favore ah aspetta rimbariata da muzicco ok rica nemici a 96 dentro al mare tuttato 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 a terra c'è un altro che stava dentro la domanda quello che cazzo è oh s'hanno sparato eccoli eccoli dove? ho capito oh oh dove oh stanno qua da fuori rega stanno avvenire da largo ah ok qua sotto come qua sotto 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 qua sotto dove sta il trampolino per saltarla come il trampolino per saltarla oh ok ho capito ho capito oh vado in cazzo arriva 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 in cazzo io sto la casa rega se potevi venire dai perché tu non è andata solo perché non ci state voi no ti avevo detto ma i nemici a tu stavano nella casa eh si e facciamo quello questo strunz ecco andiamo bene a terra uno a terra stanno qua nemici nemici a 22 a terra a terra uno a terra dietro la macchinina sto provando a push non gli posso sparare l'altra terra l'altra terra l'altra terra l'altra terra sto a fare il devasto no no si aspetta ma aspetta me resisti cerco di resiste no eh sono due eh no sono tre mi che è finita mi che è finita mi che è finita mi che è finita ma rega che palla in mezzo a due team siamo capitati cioè io non c'ho io crede a terra un altro no ma che fatta raga cioè ho fatto il devasto a sta partita ho fatto troppo casino ok ragazzi già team sto pro a canoe cazzo uno vuole scendere con me è sceso come uno sceso come me ha preso l'arma 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 per canzo sto morto Ma che stai fa? Oddio! Oddio! Ma che è sto bug? Ma che è successo? Oddio! Oddio! No! La scende! Qua sotto! Che cazzo è? Oh porco pensavo fosse un altro! Ma tocca sotto! 76 eh! Oddio! Occhio ci sta trappando a parte vento cavi! Occhio eccolo eccolo! Morto! L'hai m'ho crepato male! Raga seguite Iras Brevis Furious! Ah regà Ira Brevis Furious qui sotto Regà Ira Brevis Furious qui sotto In descrizione Dopo questo video voglio tutti i cazzo di hashtag Ira Brevis Furious Sì assolutamente regà Commentate con Ira Brevis Furious Però Ira Brevis Furious lo dovete scrivere Oddio Regà vi prego iscrivetevi Iscrivetevi al cazzo del canale Fatelo Fatelo video Vedete per ogni video Se arriva a 200.000 ha detto che farà Una live speciale Che è rinforzato a scrivere Secondo loro quale sarà La prossima mappa Stiamo Ecco Stanno qua sotto A sinistra Regà è tutto Stava qua sotto Sta qua da me No ma spara Ma hanno sparato Su Insomma Madonna Se può vedere che viene di 9 Eh lo so Diùhead просimo Stanno Start of the Ivan, nemico, nemico Da sopra, oh cazzo, da sopra Porco 2, chi l'ha visto? Da sopra dove? Da sopra, ma dove? Da un vertuto, i Ce l'hai pure sopra Ma guarda chi c'è stato qua sotto Ma io non li vedo Ma da dove stavano? Beh ragazzi, quindi Il video di oggi si può qui Io spero che comunque vi sia divertiti Lo so che abbiamo fatto partiti in merda Però non fa niente Abbiamo, cioè puntiamo più che altro sulla simpatia Io comunque ringrazio i miei due ospiti in questo caso Visto che comunque Titto se ne è buttato a naso Non ho capito manco per quale motivo Voglio dire qualcosa? E' bello raga, viva la hangout A posto, hanno detto tutto quello che devo dire Quindi ci vediamo al prossimo video Bella ragazzi E' bello raga, viva la hangout 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 Grazie a tutti.